L'ennesima morte a Ravenna, causata dalle conseguenze del lavoro a contatto con l'amianto, ripropone la questione Eternit e sono cinque i manager a processo con l'accusa di omicidio colposo. Si tratta di cinque rappresentanti legali della cooperativa ITER e anche l'INAIL si è costituita parte civile nel processo. La vicenda è legata alla morte di un uomo che aveva lavorato per la cooperativa del Ravennate dalla metà degli anni 70 sino alla fine degli anni 90 e si era poi abbalato di mesotelioma pleurico bifasico destro che nel 2011 ne aveva causato la morte. La moglie della vittima e l'INAIL come detto si sono costituiti parte civile ed hanno chiesto un risarcimento di 347 mila euro. L'uomo deceduto aveva lavorato in cantieri edili e si era anche occupato della manutenzione delle reti fognarie che in molti casi erano rivestite di amianto. Gli imputati sono stati rinviati a giudizio dal GIP per non aver adottato tutte le misure necessarie per evitare o ridurre la diffusione della pericolosissima polvere di amianto che ha causato la malattia e la morte dell'uomo. Nei prossimi mesi il giudice dovrà pronunciarsi sulla vicenda e oltre a stabilire le colpe dovrà anche decidere in merito al risarcimento richiesto dalle INAIL il costituita si parte civile nei danni subiti dai lavoratori.